benvenuti su snippet una rubrica di pensieri in codice pillole e aneddoti dal mondo dell'informatica in meno di cinque minuti è il giorno 30 aprile 1986 siamo a pisa alla sede del centro universitario per il calcolo elettronico del cnr il knuce e un comando ping parte da un calcolatore situato nella sala macchine attraversa prima un modernissimo butterfly gateway poi sorvola l'oceano atlantico sfruttando la rete satellitare del telespazio di fucino e infine raggiunge roaring creek in pennsylvania nel giro di pochi istanti un ok inviato da un operatore americano arriva in risposta a pisa ed ecco che è appena nato il primo nodo internet italiano si tratta di un avvenimento epocale frutto di cinque anni di lavoro da parte del knuce che in questo periodo sta sperimentando appunto i diversi standard di collegamento tra computer i ricercatori non possono ancora sapere che arpanet porterà fra pochi anni alla nascita del moderno internet ma già intravedono le maggiori potenzialità del protocollo tcp ip rispetto ai concorrenti tante infatti sono le università e i centri di ricerca nel mondo già collegati a questa rete in effetti anche se internet sembra ancora uno dei tanti progetti di ricerca sperimentale a pisa sono all'avanguardia e la richiesta di connettere il centro di ricerca alla rete che di fatto è gestita dagli stati uniti viene accettata subito con entusiasmo in pochi ancora si rendono conto che questo avvenimento è parte di un processo che in meno di mezzo secolo trasformerà il mondo e la civiltà umana tanto è vero che complice anche il disastro di cernobil avvenuto qualche giorno prima praticamente nessuno dei media riporta la notizia tutto passa in sordina ma nel giro di solo un anno il cnr registrerà il primo dominio punto it quindi il primo ufficialmente appartenente all'internet italiano e poi nascerà il registro dei domini punto it che ancora oggi è gestito a pisa a distanza di poco più di 35 anni noi oggi facciamo transitare tranquillamente centinaia di gigabyte di dati in giro per il globo ma quel primo collegamento unico nodo di scambio fra due nazioni implementava una velocità massima di 64 kilobyte al secondo qualcosa di assolutamente ridicolo per le necessità odierne ma più che sufficiente per gli studi dell'epoca come affermerà in un'intervista vent'anni dopo stefano trumpi uno dei membri del team di ricerca che oggi è presidente onorario dell'internet society italiana nonché digital champion per la città di livorno l'italia è quindi la quarta nazione europea dopo norvegia regno unito e germania ad entrare a far parte della rete internet e tutto è nato dall'idea di luciano lenzini informatico e ricercatore di includere il knuce in un progetto sperimentale avviato dalla darpa al quale partecipano già alcune altre nazioni europee lenzini è stato da poco a boston e ha visto gli albori e le potenzialità della rete così una volta tornato in italia ha convinto i suoi superiori che fare richiesta anche per l'istituto di pisa è la cosa giusta da fare la risposta affermativa dagli stati uniti non tarda ad arrivare lo stesso dottor robert khan direttore del progetto viene in italia per partecipare alla progettazione del nodo la scelta dell'hardware e la configurazione che si dovrà poi mettere in piedi e così gli anni passano e tutto sembra andare per il meglio fino a che a pochi metri dal traguardo non arriva un messaggio da parte della darpa in cui si comunica che è necessario che tutti i nodi europei si dotino del nuovissimo butterfly un gateway composto da 256 processori collegati secondo uno schema a farfalla da cui il nome per l'italia è la fine questo apparecchio costa più di quanto il knuce possa investire nel progetto e una richiesta di fondi necessiterebbe di troppo tempo per via delle lungaggini burocratiche non c'è altro da fare che ritirarsi lenzini quindi prende l'aereo per washington dc partecipa alla riunione di tutti i partner e quando è il suo turno di parlare comunica la triste decisione ma è in quel momento che accade qualcosa che lo stesso ricercatore non si sarebbe mai aspettato il dottor robert khan prende la parola e dice a lenzini che loro vogliono lui il knuce e l'italia nel progetto il butterfly gateway lo finanzierà il dipartimento della difesa americano in altre parole è stato per merito della fiducia nelle capacità del team dell'istituto di pisa e dell'orgoglio e dello spessore di una figura come lenzini se il 30 aprile 1986 l'italia è stata fra i primi paesi europei a collegarsi alla rete internet se ti va di sentire la storia raccontata dalla viva voce del suo protagonista ti consiglio di cercare su youtube il documentario login il giorno in cui l'italia scoprì internet grazie per aver ascoltato snippet una rubrica di pensieri in codice scopri tanti altri contenuti sul sito pensieri in codice punto it grazie per aver guardato il video